Oggi è stata una giornata molto particolare per i nostri ragazzi che hanno scattato la foto ufficiale di squadra in una delle piazze più belle al mondo, Piazza dei Miracoli, con il bellissimo sfondo del Duomo. Ma andiamo a dare una sbirciata al backstage. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.